Una grande soddisfazione per questa terra, per questa comunità. Se pensiamo a questo ragazzo si è allenato qui, ha imparato qui a fare questo sport e qui sostanzialmente da quando ha iniziato da giovane a credere in questo sport quindi Cimbra per oggi ha una giornata storica e quindi la festa che c'è qui dimostra la vicinanza di questo territorio, a questo ragazzo e a questa ragazza veneta che hanno raggiunto questo storico risultato. Con il suo papà è stato anche significativo vedere il padre che era qui, che tirava il ghiaccio mezz'ora dopo che suo figlio ha vinto l'oro alle Olimpiadi. Non è cosa da tutti i giorni vedere un padre che era qui comunque a continuare a fare quello che sempre fa. Evidentemente quello, ci sono tanti giovani e quindi serve qualcuno che spiega ai giovani cosa fare e il papà del nostro campione probabilmente sta facendo sempre questo e questo è un bel messaggio. E ora aspettiamo Amos che rientri in Trentino, magari dopo la gara squadra di domenica che sarà sicuramente importante e speriamoci dia bei risultati anche quella. Lo aspettiamo per festeggiare perché se lo merita.